Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Nutrizione Consapevole con me e Deli. Oggi parleremo dei metodi di cottura, quindi con Elia affronteremo questo argomento, quindi come i vari metodi di cottura che possono essere la frittura, la bollitura, lessare gli alimenti, il forno, la friggetrice ad aria, tutti agiscono sul risultato finale del prodotto, quindi in particolar modo sui valori nutrizionali, principi nutrizionali. Quindi Elia, iniziamo questa carrellata di metodi di cottura che sono infiniti, come ci districhiamo? Da dove partiamo? Sono veramente tanti, poi effettivamente negli anni anche la cucina e nuovi cuochi hanno evoluto tutto questo, ma intanto partiamo dal a che cosa serve la cottura, perché se pensiamo all'uomo di Neandertal, lui si prendeva la sua preda e se la mangiava così. Non aveva problemi, questi problemi che ci facciamo, è molto successo. Invece negli anni si è capito che il cibo può essere anche un veicolo e un vettore di batteri o virus, quindi la cottura ci permette di rendere più igienico l'alimento stesso, ma allo stesso tempo di renderla anche più digeribile, e quindi alimenti che da crudi risultano molto difficili da digerire, pensiamo ad esempio a legumi, per esempio, da cotto diventa più facile da digerire, ma anche le stesse carni o pesce. Nello stesso tempo comunque ci permettono anche di dare valori nutrizionali diversi, quindi la cottura può modificare il nutrimento che viene dato al nostro corpo, quindi da quel determinato alimento, ma anche in qualche modo rendere più gustoso il piatto, quindi non dimentichiamolo perché anche quello è fondamentale, perché alla fine se noi mangiamo qualcosa che non ci piace non saremo mai abbastanza sazi, quindi tenderemo a cercare qualsiasi altra cosa. Ottimo, questo come concetto di base, insomma. Come concetto di base, esatto, e quindi anche se siete a dieta, per favore fate delle buone ricette, anche semplici però gustose. Bisogna essere curiosi di più sempre, ecco. Tra tutti i metodi di cottura, da dove possiamo partire? Guarda, proprio per far capire la differenza di un alimento crudo o cotto e in base alla tipologia di cottura, parliamo ad esempio delle patate. Sì. Quindi come i valori nutrizionali della patata cambiano, ad esempio, tra la bollitura e la friggitura. Che ricordiamo, la patata non è una verdura, ma è un carboidrato. È un carboidrato, è un tubero e ha all'interno quasi tutti i carboidrati, amidi complessi e proprio questi amidi si modificano in base alla tipologia di cottura. Naturalmente la patata cruda è un alimento poco digeribile, proprio perché questi amidi non sono disponibili per il nostro corpo. Invece con la bollitura diventano totalmente disponibili, quindi infatti la bollitura porta la patata lessa, noi la possiamo schiacciare addirittura come una forchetta, quindi è molto facile da digerire e amidi molto più disponibili. Quindi cosa vuol dire? Tanti zuccheri. Tanti zuccheri, indice glicemico molto alto. Quindi sicuramente in tutti quei soggetti che devono stare bassi a zuccheri e devono avere un indice glicemico basso nel pasto, è sconsigliata o comunque va utilizzata con molta moderazione. A differenza invece della patata fritta, che viene sempre demonizzata in qualche modo, quindi noi diciamo sempre, siamo anche noi a volte che diciamo no, però la frittura con moderazione stiamo attenti. Però ecco, nel caso della patata gioca a suo favore, perché lo shock termico dato dall'olio o comunque dalla componente grassa che crea la frittura e quindi la crosticina esterna, crea appunto questa barriera esterna che non permette alla cottura di cuocere bene l'interno, quindi di rendere talmente biodisponibili gli amidi interni della patata. Ottimo. E quindi meno amidi, indice glicemico più basso. Perfetto, quindi in questo caso è meglio. Può essere utile ogni tanto dire, bene, non mangio la patatina fritta, la mangio lessata perché è più leggera? No, in questo caso no. Cos'è che cambia però? cambia il grasso, quindi mentre nella patata bollita io potrei anche non mettere nulla oppure una minima quantità di olio crudo, nella patatina fritta devo essere molto molto bravo a fare una frittura regola d'arte che poi capiremo anche che cosa vuol dire. Perché? Perché se io faccio una frittura sbagliata l'alimento si cattura più olio di quello che dovrebbe si riempie appunto di olio come una piccola spugna e quindi diventa molto calorico. Perché la quantità di olio presente in quella patatina magari è un quantitativo eccessivo. E allora la quantità di calorie date da quell'alimento è legata alla porzione di grassi, in quel caso. Esatto. Quindi fare una buona frittura con il minimo di grassi sicuramente invece ci permette di lavorare con un buon prodotto e in questo caso è un vantaggio per la patata ad esempio. Infatti per una buona frittura tanto olio o insomma tanto liquido nel caso in cui usiamo i vari tipi di olio o per assurdo possiamo utilizzare anche il burro, burro chiarificato ad esempio. Anzi ti dirò di più Katia che il burro e i grassi animali sono molto più stabili ad alte temperature, sono grassi saturi rispetto all'olio o agli oli in generale che sono grassi polinsaturi e insaturi quindi chimicamente, se c'è qualche chimico all'ascolto cioè fondamentalmente sono più instabili quindi vuol dire che ad alte temperature la molecola si rompe e quindi può danneggiarsi più facilmente. Invece burro, strutto, tutti i grassi animali e ad alte temperature resistono meglio e quindi il grasso non si altera, non si modifica. Attenzione perché utilizzare grassi instabili come l'olio di mais, di semi l'olio di oliva fortunatamente è un pochino più stabile però sempre polinsaturo quindi dobbiamo sempre fare molta attenzione anche in questo caso potrebbe creare delle sostanze tossiche soprattutto se superiamo quello che è definito il punto di fumo dell'olio. ogni olio o ogni grasso ha un punto di fumo quello è il punto in cui proprio la molecola si modifica e diventa tossica e quindi non dobbiamo mai superarlo e brutalmente si dice l'olio si brucia sì, sì, sì che comunque adesso in commercio ci sono fumo proprio ci sono i termometri adatti che possiamo inserire non solo nella carne per magari chi è appassionato di carne la mette al cuore della carne per vedere a che temperatura è al centro per vedere se è cotta o meno cotta e a che punto stiamo ma anche nei liquidi quindi all'interno dell'olio che noi utilizziamo per la frittura comodissimo così non sbagli e sai quando è ora di inserire l'alimento perché si è arrivato proprio alla temperatura giusta sì, anche perché ricordiamo che nella frittura soprattutto se abbiamo tanti alimenti da friggere quindi siamo in 15 a tavola e ricordiamo che non va utilizzato sempre lo stesso olio ma l'olio va cambiato frequentemente proprio per evitare questa problematica esatto diciamo che nella frittura io parlo poco perché non sono afferratissima io a parte che a casa io tendo proprio a non farla mai mio marito è appassionato quindi la vorrebbe anche a volte ma poi si imputtolisce tutta la casa non mi piace proprio e non lo so nemmeno fare nel senso sono oggettiva siccome io non la mangio spesso la mangio sulla ristorante non ti sei adoperata quindi non ho nemmeno lo stimolo e la voglia di imparare quindi l'argomento per me è un po' così un po' stico però ricordiamo anche che ci sono dei vantaggi sulla frittura quindi sicuramente un alimento fritto un alimento più ricco di grassi come abbiamo spiegato fino adesso quindi sicuramente più calorico la frittura non è un metodo di cottura da utilizzare costantemente o quotidianamente però ha un vantaggio quindi stimola il fegato e l'intestino a lavorare meglio ottimo proprio perché andiamo ad inserire dei grassi e quindi questa frittura tanto demonizzata poi qualche piccolo vantaggio ogni tanto ce lo dà già due ne abbiamo trovati quindi direi pienamente soddisfatte e invece io Katia che come abbiamo capito non piace tanto imputtolire casa e friggere io a casa ho la frigitrice ad aria che quindi tu dici friggitrice ad aria con la friggitrice ad aria friggi no cioè non friggi niente o meglio ottieni più o meno lo stesso risultato della frittura senza friggere perché è come un piccolo forno miniatura che quando arriva a una temperatura almeno il mio non penso che poi arrivino anche altri modelli a temperature più alte a 200 gradi quindi non è che è un forno da pizza che arriva e quando lo azioni si crea un vortice di aria molto forte quindi questa temperatura di 200 gradi questa aria che va ovunque ti permette di cuocere ad esempio le patatine fritte quelle nella busta o qualsiasi alimento ma anche il petto di pollo le verdure in maniera che fuori siano croccanti e dentro rimangano tenere perché il principio attivo Katia è lo stesso quindi alte temperature in poco tempo differente dalle alte temperature del forno che invece impiega tanto tempo per arrivare al cuore dell'alimento e il vortice di aria ci serve tanto anche a questo in più ricordiamoci che nella friggitrice ad aria comunque si consiglia sempre di utilizzare piccoli pezzi proprio per creare questo shock termico quindi il principio è lo stesso della frittura e che cosa cambia? la quantità di grassi quindi non immergo in un liquido a base di grassi quindi in un olio o in un burro ma utilizzo l'aria ricordiamoci che però è necessaria una minima concentrazione e quantità di grassi che io aggiungo all'alimento altrimenti la crosticina esterna diciamo diventa un pochino più morbida quindi non è proprio così croccante infatti quando ad esempio friggiamo ci sono le patatine fritte quelle in busta tipo adatte per il forno credo che con la friggitrice ad aria tu possa friggiare anche quelle normali però non lo diamo come certo perché non lo so comunque quelle adatte per il forno se le mettono in un friggitrice ad aria vengono benissimo però come diceva Eli quelle sono pre fritte quindi sono leggermente pre fritte poi è vero che oggi come oggi le industrie che fanno prodotti pre fritti si sono proprio aggiornati utilizzano dei metodi innovativi cercano proprio di creare dei prodotti a bassissimo contenuto di olio residuo quindi diciamo sono migliori rispetto a quelli di una volta certo però allo stesso tempo comunque un alimento fritto quindi lo dobbiamo conteggiare all'interno del nostro dispendio e introito calorico certo quindi abbiamo anche trovato dei vantaggi della frittura incredibile questo video andrà nell'Olimpo dei video rivoluzionari mentre invece altri metodi di cottura tipo ad esempio cuocere nella pentola con il coperchio quindi ad esempio la stufatura esatto è un ottimo metodo di cottura ad esempio per le verdure perché noi utilizziamo poca acqua attenzione la stufatura può essere o con un po' di acqua oppure con acqua e olio quella con acqua e olio ci porta a una cottura degli alimenti per cui gli alimenti si trasformano quindi si uniscono all'olio e diventano più difficili da digerire quindi le carni, pesci, verdure in genere è proprio più difficile da digerire e invece se facciamo la cottura con acqua quindi stufatura in acqua è ottima per le verdure perché io preservo tutti i minerali e le vitamine o quasi soprattutto perché di solito sono cotture molto veloci non sono come le cotture a bollitura quindi tanto tempo sobollire in grandi quantità di acqua oppure nel forno con altissime temperature sono preparazioni veloci arrivo la sera tardi dal lavoro che cosa faccio? metto un po' di vietoli o di spinaci con un pochino di acqua e velocemente cerco di appassirle in questo modo preserviamo molte delle proprietà nutrizionali sicuramente quasi tutti i sali minerali le vitamine attenzione a quelle idrosolubili o comunque a quelle che possono essere alterate dal calore come la vitamina C la vitamina E che queste in qualche modo vengono preservate solo con l'alimento frutto ma infatti questa tecnica l'ho proprio utilizzata l'altra sera che ho preso io dove i carciofi ne ho presi un sacco insomma pulirli non è una cosa da 5 secondi comunque ho impiegato mi sa un'ora per pulirli tutti comunque poi li ho tagliati a metà e li ho messi con un goccino di acqua con un pochino di sale tutti belli stesi li ho coperti li ho lasciati andare così li ho girati una volta e poi una volta che l'acqua era evaporata comunque sono avuti in 20-25 minuti certo perché poi il carciofo è un alimento è una verdura un pochino più rigida esatto e ho tolto il coperchio gli ho fatto fare un po' di crosticina e poi ho messo il prezzemolo e e alla fine quando li ho messi appunto nella pirofila quindi una volta cotti ci ho messo lì il mio giretto d'olio e quello sarebbe la cosa migliore perché manteniamo tutte le vitamine soprattutto la vitamina E ma anche tutti i polifenoli presenti all'interno dell'olio quindi l'olio crudo io lo consiglio sempre perché l'olio io sono pissata l'olio è un alimento che spesso si dice devi utilizzare poco olio nella dieta perché un grasso ha un valore calorico importante però ricordiamoci che l'olio invece è un alimento da preservare da utilizzare e che ha tante proprietà lo senti? sì quindi abbiamo bisogno magari di una piccola quantità per avere invece tanti vantaggi quindi tanti polifenoli quindi sostanze antiossidanti vitamina E che è antiossidante quindi grassi buoni in generale quindi va benissimo utilizzarlo e riusciamo ad usarlo meglio in questo modo certo mi sa che abbiamo detto tutte le cotture ma manca quella al forno forse ah il forno perché è vero frigidrice d'aria l'ho associata forno e bollitura quindi cioè va bene il forno che poi è quello più classico sì è quello che si usa a volte di più anche per il pesce o per le carni sì attenzione perché comunque ci sono alte temperature per tanto tempo quindi è un tipo di cottura che disidrata molto l'alimento quindi se noi vogliamo fare una carne o un pesce un pochino più umidi sicuramente non è la metodica migliore è molto utile invece per i panificati per i lievitati per i prodotti da forno come il pane perché ci permette di creare una reazione che si chiama reazione di Mylard è che l'unione di proteine quindi le proteine presente nella farina e dei carboidrati che è un tipo di reazione che non può essere riportata alle origini quindi una volta che è fatta è fatta quindi quest'unione proteine e carboidrati rimangono è un matrimonio è un matrimonio indissolubile ed è proprio quella che ci permette di fare il lievitato quindi di permettere poi alla farina stessa con la sua spinta di lievitazione di gonfiarsi perfetto fantastico e comunque il forno si presta bene ad esempio per fare a parte la solita pizza che comunque si può fare con la frigitrice ad aria non l'ho mai provato però so che si può fare è fantastica anche per cuocere le verdure ad esempio perché comunque il forno essendo grande comunque ti permette di fare una stesa di verdure tagliate a dadini eccezionale e in quel caso dal punto di vista nutrizionale è solo il fatto che perdiamo maggiormente la quantità di liquidi quindi diventano un pochino più asciutte più asciutte e tutte le vitamine o i minerali i minerali magari vengono preservati un pochino di più però le vitamine che si modificano dalle temperature le perdiamo esatto però ricordiamo sempre anche che la verdura cotta va associata poi anche alla verdura cruda o comunque alternate quindi ciò che non prendiamo da una parte lo prendiamo da altre parti poi magari quello che non prendiamo oggi lo prendiamo domani perché oggi mangiamo cotta domani e facciamo un bel bilancio un po' e come abbiamo visto a volte la cottura invece rende più biodisponibili alcune sostanze quindi benissimo addirittura alcune volte cambia le proprietà quindi esempio il pomodoro è un alimento estremamente acido con la cottura diventa un po' meno acido non stiamo parlando della passata di pomodoro che ha una sua acidità ma è legata anche alla conservazione stessa ma è proprio un pomodoro fresco cotto ha un valore di acidità inferiore quindi tutte quelle persone che soffrono di reflusso o di disturbi gastrici magari lo possono utilizzare cotto e non crudo come il discorso per la frittura capito indice dicemico alto o basso assolutamente l'ultima cosa attenzione alla bollitura perché spesso viene vanificata in qualche modo quindi ho bollito ho fatto bollitura quindi va bene però perdiamo tantissime proprietà nutrizionali e nutritive quindi ricordiamoci che può essere utile invece quando utilizziamo anche l'acqua di cottura quindi stiamo facendo ad esempio un brodo un passato di verdure quindi l'acqua viene in qualche modo preservata allora lì mantengo tutte le proprietà se no l'acqua di cottura se ne va nel momento in cui la eliminiamo esatto questa volta abbiamo detto tutto questa volta abbiamo detto tutto quindi ragazzi spero di aver affrontato che abbiamo affrontato in maniera eccessa questo argomento dei metodi di cottura se avete altre domande noi come al solito le gradiamo molto e le aspettiamo nei commenti qui sotto che dire ci vediamo nel prossimo video un bacione alla prossima ciao